Avete presentato come gruppo del PD un provvedimento, una proposta di legge su un welfare sociale legato alla sanità allargata a chi ha dei problemi economici. Ci può spiegare meglio di cosa si tratta? È una proposta di legge presentata dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale per dare assistenza sanitaria ai senza fissa dimora. Sostanzialmente oggi i senza fissa dimora non hanno il proprio medico di base, il proprio medico di famiglia e per questa ragione attraverso questa proposta di legge cerchiamo di colmare questa lacuna nell'ambito dell'assistenza sanitaria soprattutto in questa vicenda di crisi pandemica ma anche per alleggerire i pronto soccorso. Attraverso questa legge che è stata già fatta in Emilia Romagna, approvata all'unanimità da quel Consiglio regionale, cerchiamo anche in Abruzzo di introdurre questo strumento di correttezza e soprattutto di dignità di ognuno di noi, anche perché la Costituzione italiana stabilisce che ogni individuo deve avere accesso al servizio sanitario nazionale e per questa ragione ci auguriamo che la nostra proposta di legge possa essere accolta nel miglior modo possibile da ogni componente del nostro Consiglio regionale.